Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice e sono qui a San Pietroburgo ex lingua da due settimane. Ho appena concluso la seconda settimana e tra qualche giorno torno in Italia. È stata un'esperienza bellissima, per me è stata la prima volta qui in Russia e mi sono trovata davvero a mio agio fino al primo giorno. Qui a scuola, gli insegnanti sanno mettersi a tuo agio e le lezioni sono davvero utili, si studia davvero tanto e si fanno progressi. Per quanto mi riguarda, io ho studiato il russo all'università e sono venuta qui per migliorarlo e ho anche sostenuto l'esame TRKI e sono soddisfatta. Ho scelto questa città perché è una città bella, ho avuto modo di visitarla nonostante sia stata qui soltanto due settimane, ma quantomeno ho avuto modo di visitare i posti più importanti anche grazie alle attività organizzate dalla scuola nel pomeriggio e nel fine settimana. Davvero, gli insegnanti sono disponibili, professionali ma allo stesso tempo simpatiche e ti vengono incontro per qualsiasi esigenza. Io ho alloggiato in famiglia e anche lì non ho avuto alcun tipo di problema e si sono dimostrati molto disponibili. Ho avuto modo anche di chiacchierare con loro in russo e quindi di migliorare la mia conversazione, il mio livello di conversazione per cui consiglio a tutti di venire qui a studiare ad Exlinguo a San Pietroburgo. Viva la Russia, il russo, ruskiazik e Exlinguo!